Allora intanto oggi 3 dicembre è la giornata internazionale delle persone con disabilità che in Italia sono 3 milioni 150 mila e mai come per loro vale l'articolo 3 della Costituzione italiana che dice bisogna rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno svolgimento della persona umana perché anche questa è una grande questione di uguaglianza sostanziale tra le persone e quindi è prima di tutto una questione sociale e una questione politica. In questo paese che oggi è stato fotografato come ogni anno dal census il 55esimo rapporto del census sull'Italia. Allora cosa ci ha detto il census? Intanto ci ha detto che c'è un'Italia irrazionale in cui ci sono italiani sono il 12,7 per cento che pensano che la scienza crea più danni che benefici e poi c'è un 5,7 e sono 3 milioni che dicono e dichiarano che il Covid-19 non è mai esistito. Il 39,9 per cento è convinto della teoria del grande impiazzamento della sostituzione demografica che come sappiamo è una teoria che vedi la strage in Nuova Zelanda di due anni fa ha provocato anche molti guai, molte tragedie e il census dice insomma che c'è un sonno fatuo della ragione, una fuga fatale nel pensiero magico, stregonesco, sciamanico. Ora a volte quando vedi la qualità del dibattito pubblico un po' questo ti arriva anche in questo studio, in questo palco lo raccontiamo quasi tutte le settimane però diciamo qui abbiamo un appiglio molto autorevole. Altra cosa dice il census la parola transizione ha sostituito la parola crisi, forse la parola transizione sembra più gentile da meno l'idea della difficoltà però insomma in realtà la crisi è anche un passaggio e quindi c'è la transizione ecologica, la transizione digitale, la transizione demografica, la transizione nel mondo del lavoro e poi c'è naturalmente la transizione politica in cui dice ancora il census benvenga l'inquietudine politica e non l'acquietamento del pensiero la maschera di ogni poco curata transizione. Se c'è una transizione che è poco curata da tutte le forze politiche è quella di queste settimane verso la fine del mandato di Sergio Mattarella e l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica e oggi si è mostrato molto inquieto il Presidente della Repubblica Mattarella come non aveva mai fatto proprio oggi che è il 3 dicembre sono sei anni e dieci mesi dall'inizio del suo mandato quindi ne mancano esattamente due e questa volta insomma non l'ha mandato a dire. Cos'era successo? Due senatori del Partito Democratico Dario Parrini e Luigi Zanda avevano ieri presentato un disegno di legge costituzionale per cambiare due articoli, l'articolo 85 e l'articolo 88 della Costituzione. In pratica se passasse questo disegno di legge non sarebbe possibile per un Presidente essere rieletto per un secondo mandato e sarebbe abolito il semestre bianco, quei sei mesi della fine del mandato di un Presidente in cui il Presidente non può sciogliere le camere. Mattarella ha sempre detto che questo sarebbe il suo modello ideale, citano anche dei predecessori e quindi questa proposta di legge l'ha stata interpretata un po' da tutti come un modo in cui il Partito Democratico diceva Mattarella in pratica, vedi facciamo questo cambiamento che ci hai chiesto tu, quindi visto che non ci sarà più la possibilità per un Presidente di essere rieletto e quindi non succederà che un Presidente è una specie di monarca eletto a vita o peggio ancora che la sua carica è sottoposta a mercanteggiamento, beh potresti fare il bis, potresti farti rieleggere così tutti i nostri problemi sarebbero risolti. Mattarella non l'ha presa bene per la prima volta e ha visto di tutto, ha visto la piattaforma russo che gli votava il governo, ha visto i decreti Salvini, ha visto il Conte 1, il Conte 2, ha visto l'impeachment, era rimasto sempre sereno, questa volta ha perso la pazienza e ha fatto uscire una nota informale, una nota ufficiosa in cui ha detto di aver preso con stupore questo tipo di interpretazioni che vi ho riassunto, che lui ritiene un motivo di ulteriore conferma della sua ben nota opinione, ovvero che lui il secondo mandato non lo vuole fare e non ci sta, anche perché impedire che Mattarella esca di scena dal punto di vista di partiti piuttosto inquieti e incerti sul loro futuro significa impedire che escano di scena anche i leader di questi partiti che appunto non riescono a comporre una maggioranza per eleggere il presidente. In queste stesse ore ci sono altre uscite di scena, per esempio in Austria si è dimesso il cancelliere Schallenberg dopo appena due mesi di governo e ha annunciato l'addio alla politica. Kurz, che era l'enfant prodigio della destra europea, 35 anni, dice che lascerà la politica, vediamo, vedremo. E poi è uscita di scena Angela Merkel, ha fatto un discorso dove ha detto provo umiltà di fronte all'incarico che ho ricoperto e provo gratitudine per la fiducia che mi è stata assegnata, perché la fiducia in politica è tutto. Così come tutto il compromesso, voglio invitarvi a guardare il futuro con gli occhi degli altri, non esattamente quello che invece ha fatto uno che sta cercando di entrare in scena, cioè Enric Zemmour, il campione della nuova destra francese, che ha fatto un video rispetto al quale quello di Silvio Berlusconi del 1994, intanto era un capolavoro di ottimismo e anche un capolavoro visivo rispetto alla cupezza di questo video di Zemmour, ma insomma, entrare in scena, scendere in campo e uscire di scena sono i due grandi movimenti della politica. Questo lo sa bene un grande sportivo, un grande attore, un grande politico e allora dietro il mo' di Mattarella e la sua decisione di uscire di scena in questo modo c'è anche una grande lezione, c'è la consapevolezza della fragilità e del limite che è l'essenza della politica, la transizione.